Musica Sono qui, ospito questa fiera bellissima, un evento spettacolare in cui mi sto trovando molto bene soprattutto perché abbiamo tante associazioni LARP, oltre a tutto quello che è poi il gioco da tavolo, il gioco di ruolo cartaceo c'è anche tutta la zona del gioco di ruolo dal vivo, che è un argomento che si inizia ad affrontare in Italia ma che merita ancora più visibilità Quindi ragazzi, se vi piace l'ambiente, se vi piace il gioco a tutto tondo, dal gioco di ruolo sia dal vivo che da tavolo l'anno prossimo sapete dove venire, sicuramente risarò qui e buon proseguimento Musica 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 Musica